La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila del febbraio 2018, nella quale erano state confermate le condanne medici Malio Porcellini del Livorno Calcio, Ernesto Sabatini del Pescara Calcio e Vito Molfese del 118 per la morte del calciatore del Livorno Pier Mario Morosini deceduto durante Pescara Livorno, gara giocata nel 2012. I tre medici erano stati condannati a otto mesi i primi due e a un anno il terzo. La Corte ha disposto un nuovo processo presso la Corte d'Appello di Perugia. Gli avvocati Girardi e Rondanina da Livorno hanno fatto sapere che al momento non sono disponibili le motivazioni della sentenza ma che l'opposizione dei legali dei tre medici tra i quali anche l'avvocato Alberto Lorenzi di Pescara che segue il dottor Molfese era stata ampia e verteva sull'intero complesso della sentenza aquilana. Tra queste soprattutto la responsabilità dei medici sull'uso del defibrillatore il cui uso secondo una perizia avrebbe potuto forse dare qualche chance in più di vita al giocatore livornese.